il piccone ghiaccio il piccone ghiaccio a ok ghiaccio ok vai marco il tuo regalo me la fai invia che la invio si è andato ok il rinnegato il primo e sto balleto qua che io non sento non ti puoi sbagliare grazie strenge win 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 fuck to everything else win 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 hello i'm strenge adesso mi potete supportare con il tuo discepio di attore grazie a tutti strenge e lo puxa il da raggio più oh mio dio è raggio aia mi squagliato zio ti guardia l'occhio si spara daereo da lontano aaaaaaaaa è la fai il tiro io mi vado di nuotare raggio grazie oh mio dio grande 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 non lo faccio paralisi notatevi se non vedete oh mio dio grande marcia ho superato un pala non importa eh lo stai ma li dovrei muta fino credi nooo grandi grandi marcia poi il mio amico non lo faccio ma guarda ma guarda ma guarda ma guarda ma guarda ma guarda ma che prezzi di vita mamma mia cosa anche io anche io ma quindi no oh cazzo eh ho finito anche io no raga è impossibile raga cosa no 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 oh cos'è oh il bull viene aiutato dalla pioggia oh oh grazie ahia si 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 cosa no no è possibile cozzo oh è impossibile raga oh eh lo so lo vedo lo vedo una macchina da guerra un coccodrillo un coccodrillo un coccodrillo un coccodrillo un coccodrillo salti contro canetti raga mamma mia era bella cosa salti contro canetti si adesso vai un e La cittura è la cittura C'è da prima che facciamo Ad adesso È migliorata la cifra No cosa? Oddio Oddio No C'è C'è oh trai le maniere anche le faccia no 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 oh mio dio oh mio dio oh mio dio se impanita la papea ora che è verissimo ma i ma 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 o ma 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 con questa skin ha le più sembri la nuova xbox i riflessi di ciccio io ho uno oh mio dico ma io massimo posso arrivare al secondo posto ma è bello anche che la particula godo godo gui ma non così ha gullo invece la modella se non mi chiede che la porto ecco e tu che devi essere vado a prendere pure qualcosa a mangiare bravo 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 esatto bravo bravo Nooo! Eh, mi dispiace Marco, ti sei preso i 500 VBUSKERO!